Andrea è impossibile non partire da un aspetto personale prima di andare poi sulla prestazione della squadra ti porti a casa il pallone e ti chiedo se ti era mai capitato assolutamente no, è la prima volta, è un'emozione grandissima perché è coincisa anche con una partita da un significato molto importante per il momento della stagione, per la partita scorsa dalla quale venivamo quindi sono molto contento sotto tutti i punti di vista Ma è stato possibile switchare così velocemente in pochi giorni dopo la partita di Cesena e vedere un'entella così aggressiva, così compatta, così mentalizzata stasera? Voglia di rivalsa, avevamo dentro tanta rabbia, tanta delusione e siamo stati bravi a incanalarla nel giusto modo siamo riusciti ad essere aggressivi, a non subire la partita e quindi è stato un bel segnale che ci siamo andati principalmente a noi stessi e poi anche allo staff, alla società, ai tifosi stessi e quindi da questo dobbiamo solo ripartire con tante certezze e pochi dubbi di quello che possiamo fare e quello che siamo Si torna subito in campo tra pochi giorni, ma quanto vi può dare da un punto di vista morale questa vittoria e anche che consapevolezza vi può dare il fatto di aver trovato così tanti gol contro la squadra che in questo momento è quarta in classifica? Sicuramente a livello di morale ci può dar tanto Dobbiamo essere bravi noi a non farla diventare una goccia nel deserto Dobbiamo essere bravi a smaltirla alla svelta perché ci aspetta comunque domenica una partita molto importante in cui dovremo entrare in campo con questo atteggiamento Dopo il risultato, quello dipenderà da tantissimi fattori e stasera ci sono anche girati magari dal verso giusto e quindi noi dovremo affrontare la partita la settimana che viene, i giorni di allenamento con l'intensità giusta, con il sacrificio giusto per arrivare a domenica pronti e pronti per un'altra battaglia Tre gol non capitano tutti i giorni, arrivano anche dopo un momento non facile ti chiedo se hai una dedica Dedica alla squadra, ai ragazzi della squadra, ai ragazzi che giocano meno ma che in allenamento comunque vanno sempre a 3.000 ci aiutano a tutti a stare sul pezzo e poi poter andare in campo e fare partite così come quella di stasera